Con l'assenza dell'opposizione erano presenti solo il consigliere Gabriele Antonino e Massimo Ciullo si è svolto il consiglio comunale monotematico nella pomeriggio del 27 maggio a Brindisi incentrato su Versalis e sulle emissioni di sostanze inquinanti, benzene e toluene. Entrambi i consiglieri comunali non hanno condiviso la posizione dei loro colleghi di minoranza e si sono presentati in videoconferenza. Il resto dell'opposizione invece aveva deciso nell'immediata vigilia di non partecipare all'assise definita una farsa. In sostanza si doveva votare la decisione di dare mandato al sindaco per rappresentare le stanze della città sulle tematiche ambientali a livello statale e regionale. Il sindaco Rossi nel suo intervento ha ribadito che durante le attività di manutenzione di Versalis quando cioè l'impianto è fermo per la produzione ci sono state delle emissioni strane e pericolose. In alcuni giorni di maggio, in alcune zone, in particolare nell'area del petrolchimico si sono rilevati valori di benzene, sostanza cancerogena, vicino a 35 mg. È vero, ha continuato Rossi, che la soglia annuale che non bisogna superare è molto inferiore ma la legge dice che in ogni caso mai i valori devono essere superiori a 27 mg. Ci aspettiamo ora da Versalis che nell'incontro in regione del 28 maggio ci faccia conoscere interventi concreti in seno all'AIA per abbattere queste emissioni. Chiediamo inoltre al governo riconoscimento per far parte dell'era della New Deal come Taranto. Noi abbiamo pagato tanto per lo sviluppo industriale, la chimica di base degli idrocarburi non deve essere più l'unica chimica. È una battaglia che dobbiamo fare insieme per salvaguardare 1500 lavoratori, ha detto Rossi. Nessuno di noi vuole lasciarli per strada. Intanto l'azienda ha fatto sapere al capo di gabinetto della regione Puglia che giovedì 28 non prenderà parte all'incontro convocato dal presidente della regione Emiliano alla presenza del sindaco Rossi.